Educare ed educarci alla felicità È un tema impegnativo come stiamo vedendo ma ti appassiona Mi hanno scritto una e-mail alcuni ragazzi di una scuola Di una quarta liceo di un paesino ligure Bene, questi ragazzi mi hanno chiesto che cosa voleva dire educare alla felicità E hanno ragione perché evidentemente io con le mie povere riflessioni Non sempre sono riuscito a dare loro così A parlare al loro cuore diciamo in questa maniera E oggi cercherò di parlare con il cuore a questi ragazzi A questi giovani ma a tutti E voglio iniziare con le parole di un uomo felice Papa Francesco Un uomo felice perché vive il Vangelo E proprio perché vive il Vangelo inquieta Da fastidio Ma guardate che Gesù dava fastidio E non è un caso Che le invettive più forti di Gesù Sapete a chi sono state rivolte? Agli uomini del potere religioso Il Vangelo libera ma inquieta E dicevo Papa Francesco Chiudendo il sinodo dei giovani Ha chiesto scusa, ha chiesto perdono ai giovani Perché ha detto Invece di ascoltare, di aprirvi il nostro cuore Noi vi abbiamo riempite le orecchie di chiacchiere, di parole Questi giovani dobbiamo saperli ascoltare Perché sapere ascoltare il desiderio dei giovani Saper vedere E aiutare i giovani a realizzare i loro sogni Che sono sogni di felicità Vuol dire educare alla felicità Quindi educare per prima cosa significa ascoltare Educare vuol dire, come abbiamo visto già in precedenza Essere grati Avere un cuore pieno di gratitudine Educare vuol dire aiutare l'altro A uscire dalla infelicità Dalla tristezza Dall'egoismo Dal peccato Dall'individualismo Dalle schiavitù che si hanno dentro Ma un bravo educatore Deve essere anzitutto un testimone E perché io possa essere un bravo educatore Devo avere pazienza Capacità di ascolto Devo saper dire La verità con molta carità Devo saper attendere il passo degli altri E non pretendere Che gli altri seguono il mio passo Devo saper Fare silenzio Sapendo aspettare i tempi maturi Devo saper vedere sempre Il bene dell'altro Le potenzialità dell'altro Considerare l'altro mai come uno sbaglio Ma sempre come un valore E una positività Ci vediamo domani Padre Pio TV Dritto al cuore Ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti